Allora, facciamo un riassunto delle serate precedenti. Sì, beh, devo dire che intanto sono felice di aver passato le prime due serate, che erano quelle senza il televoto, visto che comunque c'era molta gente che aveva il pregiudizio del televoto, invece in questo caso a votare è stata una giuria demoscopica e quindi alla pari di tutti siamo riusciti a passare. Ecco, allora tutti hanno lo stesso identico problema, immagino tranne Vecchioni e tranne... La concorrenza ci sta facendo concorrenza anche all'interno della nostra radio, voi non sapete in che condizioni stiamo lavorando, una radio dentro l'altra praticamente, allora gli spazi sono quello che sono. Allora, si parlava prima con Anna Tattangelo proprio di quello, anche Anna Tattangelo per esempio sente di essere stata da questa demoscopica, tra virgolette, che poi tra l'altro è rappresentata invece da gente che pare se ne intenda molto, no? A voi andava bene anche la demoscopica? A noi sì, a noi sì. L'orchestra non ne parliamo perché quelli sono i più addetti? Beh, l'orchestra credo che sia nei numeri uno per poter votare, perché sono dei musicisti completi, sono dei grandissimi professionisti e poi secondo me l'orchestra può valutare anche un pochettino, secondo me, quello che può essere, come si può dire, quello che trasmette anche un artista, no? Magari, perché loro secondo me sentono meglio fondamentalmente. Certo, non c'è dubbio che sentono meglio, ma soprattutto sono dei grandi intenditori. Allora, anche lui stava accendo i conti, dice ma chi vota stasera? Non si capisce più niente. Effettivamente questa sera ci sarà la giuria demoscopica che abbiamo già detto, quella cattivissima che ha mandato fuori, sia Anna Ox, sia Patti Bravo, sia Anna Tattangelo, sia Albano, ripescati dal televoto, dove sappiamo benissimo che Anna Tattangelo e Albano sicuramente hanno un grande appeal, così come ce l'ha Emma, diciamocelo, lo sappiamo, no? E meno forte sul televoto secondo me potrebbe essere Vecchioni, ma chi lo sa tutti magari si sono risvegliati e non sono solo i giovani a votare, anche perché Vecchioni è un bel pezzo anche per i giovani, Vecchioni è un pezzo più amato anche da te, no? Anche da me sì. Quindi la tua classifica ideale quale sarebbe? Ma sicuramente, io non ho una classifica, io credo che vinca, abbiamo vinto tutti, poi il premio lo dare a Vecchioni. Questo è vero, che avete vinto tutti, forse quelle meno vinte, quelle più vinte, che però insomma in qualche maniera secondo me poi sono nel loro ruolo lo stesso, sono Anna Ox, intendo dire, e Patti Bravo, abbiamo già detto peccato non vederla esibire con Morgan. Sì, è chiaro, peccato, sarebbe stato un duetto interessante da vedere, però ho sentito la canzone in radio del duetto. Bellissimo. Senti, giustamente non si esibiranno, dico giustamente a Domenica M perché non è il posto adatto per esibire Morgane, è giusta come scelta d'immagine. Io ti voglio dire una cosa, tu mi stavi dicendo giustamente, non è vero che ieri sera siamo stati scarsi, anzi tu sei fiero di aver fatto questo? Il duetto di ieri sera, forse mi è piaciuta più l'esibizione di ieri sera che le altre tre esibizioni che abbiamo fatto, proprio credo che Francesco Renca abbia dato alla canzone una magia che veramente, forse proprio per il fatto di averla fatta solo orchestra e voce, per quasi tutta la canzone, devo dire che a me è piaciuta moltissimo. Senti, a chi li dedicherai questa, diciamo, vittoria, tra virgolette, qualora ci fosse una vera vittoria o anche un podio, mi sembra già una bella vittoria, perché abbiamo già detto che per te la posizione ideale sarebbe un secondo posto. Sì, sì. A chi la dedicherai? Ma credo sia scontato dire alla mia famiglia, anche se poi effettivamente è sempre così, però ho già detto... Fidanzate, non ne parliamo, non ne... Sì, la mia famiglia è la mia fidanzata anche, la mia famiglia è mio papà, mia mamma, la mia fidanzata, mio fratello, quella è la mia famiglia. Però sicuramente ho già detto in passato che dopo aver visto ridicolizzare un grandissimo artista che è tra i miei più grandi artisti in televisione, e ho detto che se dovessi vincere il mio pensiero, il mio premio, lo vorrei dedicare a Francesco Nuti. Ah, sai che hai ragione? Hai ragione, io sono perfettamente d'accordo con te, ma tu lo conosci Francesco? No, ma glielo porterò poi di persona senza telecamere. Ecco, allora, guardate, già che ci siamo, ve lo diciamo qui apertamente, finché siamo in grado di intendere di volere, il giorno che purtroppo la vita capita a tutti, ci dovesse purtroppo regalare anche una disgrazia come quella che purtroppo è accorsa... A Francesco non fateci lo stesso trattamento, lo diciamo in tempi in cui... Assolutamente no, ma credo... Hai ragione, sai, è molto brutto vedere. Senti, salutiamo tutti, Emma sta dormendo, me l'hai salutata? Emma sta dormendo, sì, te l'ho mandato il salutare. Ancora in bocca al lupo e in modà per questa sera, e un bacione grandissimo, ci sentiamo tra pochissimo sempre su Radio Monte Carlo, in diretta da Sanremo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.